buonasera un video quasi al buio perché siamo al tramonto e pensavo ad una scrittura della bibbia visto che c'è un po di buio però anche nel buio possiamo fare una cosa importante anche al buio possiamo fare una cosa importante quando siamo nei problemi quando siamo nelle difficoltà una cosa che possiamo fare è subito fare una cosa accendere la luce accende la luce della rivelazione delle scritture tutto quello che tu devi fare quando sei nelle difficoltà quando sei nell'oscurità quando sei nel buio l'unica cosa che tu puoi fare è accendere la tua luce salmo 119 verso 105 dice la tua parola una lamba dal mio piede una luce sul mio sentiero stavo pensando a una scrittura nel vangelo di luca al capitolo 24 al versetto numero versetto numero 29 vi ricordate i due di Emmaus i due di scepoli di Emmaus hanno riconosciuto che c'era gesù e all'improvviso dice Gesù se ne stava andando infatti dice la bibbia verso 29 essi lo trattennero dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire ed egli entrò per rimanere con loro che bella storia si resero conto che Gesù se ne stava andando si resero conto che c'ero tenebre si fa sera signore resta con noi per favore resta con noi perché si fa sera e Gesù disse una cosa molto bella una volta disse che lui è la luce del mondo disse mi piace rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire senza Gesù senza la sua presenza si fa sera senza Gesù senza la sua presenza senza la sua presenza e c'è buio c'è tenebre nella vita nella casa nella famiglia nel ministero nel lavoro dovunque a volte le persone camminano come a tastoni proprio camminano camminano nel buio tutto quello che queste persone tutto quello che i cristiani dovrebbero fare non è fare chissà che cosa vai nella bibbia vai nella sacra bibbia inizia ad accendere scrittura perché facendo così cercando la bibbia cercando Gesù tu stai facendo come i due di Emmaus che dicevano signore rimani con noi perché si fa sera rimani con noi però comunque si faceva sera o con Gesù o senza Gesù comunque si faceva sera ma cosa volevano dire i discepoli signore anche se si fa sera la cosa importante è che ci sei tu signore perché tu sei la luce perché la luce porta anche calore perché c'è la tua presenza anche se io devo passare momenti tenebre noi vogliamo te solo te cioè lo stesso con lui o con Gesù o senza Gesù comunque la sera il giorno era già declinato le tenebre si stavano calando però diciamo però anche nelle tenebre l'importante è che ci sei tu quindi non so dove ti sta trovando questo mio video non so cosa stai passando in questo periodo ma sappi una cosa se ti trovi proprio nelle tenebre fitte della tua vita tutto quello che tu devi fare è accendere la luce accende la luce delle scritture chiamare a Gesù che è la luce e lui illuminerà le tenebre e si realizzerà una bella scrittura che ho citato poco fa salmo 119 verso 105 la tua parola è una lambada al mio piede è una luce sul mio sentiero una lambada per il piede ci significa un passo alla volta cosa devi fare le scelte che devi fare ma non è solo luce per i prossimi passi che devi fare ma anche per il sentiero cioè per il futuro la tua parola è una lambada al mio piede oggi al momento in questo minuto ma anche una luce sul mio sentiero c'è guida per sempre c'è luce per sempre c'è rivelazione per sempre ecco perché i due di emmos hanno sentito dire signore per favore resta con noi resta con noi perché il giorno sta declinando signore resta con noi perché si fa sera senza di te in questo mondo c'è tenebre c'è oscurità c'è travaglio c'è oppressione c'è malattia c'è maledizione signore ti prego tu sei la luce resta con noi dio ti benedica